Sono diversi gli obiettivi raggiunti dall'Associazione Costruttori di Ili Cremonese, ma si guarda già al futuro puntando sull'informatizzazione della sicurezza nei cantieri, che verrà illustrata grazie a un evento in programma per febbraio. Si punterà anche alla realizzazione del progetto Cantiere Impatto Sostenibile a favore di un'edilizia incentrata su condotte da assumere, che rispettino l'ambiente, riducano la produzione di rifiuti e favoriscano l'economia circolare. Un corto di alta formazione per diplomati, inoltre, partirà ad ottobre alla Scuola Edile di Cremona per affrontare i temi della sostenibilità edilizia. Diciamo che di carne al fuoco ce n'è tanta per quanto riguarda il settore. Abbiamo i lavori per quanto riguarda le opere pubbliche del PNRR, il famoso PNRR, che sono iniziati alcuni, alcuni sono ancora in fase di progettazione, e diciamo che purtroppo è una corsa contro il tempo. La nostra speranza è che la comunità europea dia una proroga perché siamo convinti che si faccia un po' fatica a far tutto. Un'altra cosa che preme è che le amministrazioni pubbliche siano puntuali per quanto riguarda i pagamenti e dei lavori che vengono fatti, e soprattutto anche degli extracosti che si sono stati dovuti alla revisione prezzi che vengono pagati. Adesso stiamo ancora aspettando i denari del 2022, siamo all'inizio del 2024, mi sembra un pochino tardi, ecco, perché mettono in crisi finanziaria, c'è il rischio di mettere in crisi finanziaria le imprese. Da imprenditore devo essere ottimista, speriamo che migliorino le cose, il governo le rassicurazioni le ha date, anche se avete sentito le dichiarazioni del ministro Giorgetti, soprattutto per quanto riguarda il 110%, dice che è molto preoccupato perché è stato, lui l'ha chiamato l'LSD dell'Italia, una droga perché per ora siamo già, sembra, a 140 miliardi di impegni del governo che sono tutti i denari che lo Stato tira fuori e poi dopo ci vorranno degli anni per recuperarli, ecco.